Siamo qui con Loris Migliari, consigliere delegato marketing e comunicazione di Volley Tricolore. Loris, che cosa ha portato alla scelta di rinnovare così presto il contratto a Coach Mastrangelo, che è una scelta storica per la società e in totale controtendenza con le abitudini della Lega? Giustamente, come hai detto, è un'assoluta novità, ma credo che sia un segnale forte di quello che questa società ha fatto e sta facendo in questi anni per essere sempre più una società che ragiona in termini di programmazione, pianificazione e oggi, rinnovando con Mastrangelo, direi che gettiamo le basi per quello che è la futura stagione. Questo deve essere per lui di maggior stimolo, idem per la squadra, che comunque si ritroverà con un allenatore che assolutamente a questo punto ha anche la certezza di essere di nuovo qui con noi, quindi anche i ragazzi stessi credo che ci terranno a continuare a fare bella figura come stiamo facendo e come finora almeno ci si sta comportando. Noi è una stagione che ci vede assolutamente soddisfatti, quindi era il giusto merito per l'allenatore e la giusta responsabilità per la società di ragionare in termini di programmazione. Alla luce di questa stagione, Loris, come si sono modificati? Se si sono modificati gli obiettivi posti dalla società ad inizio stagione? Gli obiettivi non si sono modificati, rimane quello di partecipare ai play-off. Si è aggiunto l'obiettivo di raggiungere la finale di Coppa Italia che comunque significa per noi e per il volley a Reggio scrivere una pagina di storia, arrivare a giocare questa finale. Quindi questo è quanto. Per il resto credo che ci sono tutta una serie di altri obiettivi, di altre cose che vanno al di là di quello sportivo e che comunque ha ottenuto e sta ottenendo Mastrangelo obiettivi che possiamo solo noi vedere e che fanno parte di quello che è la gestione dell'ambiente di quello che è la costruzione di un organico di un certo tipo, di una situazione di un certo tipo della gestione dello staff, il seguito sul giovanile, tante altre cose che solo noi possiamo vedere e che sicuramente possiamo già dire su queste l'obiettivo è stato raggiunto.